Ben acom, pick one, go, go, go Bravam, bravo! Bravo il listoo! collecting Jafatso kuvporti che c'ha il computer 문ajettato Pagano, Pagano! Pagano, 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 Pagano! K顆one! Ma tu tieni? Ahahahah Ma e abbiamo Gnaca e capiamo Gnac con le schienze giusta vai dai 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 allora e l'altro 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 è stanghi su apazio G custom portare prosti MADRE! Viene la scelta! Viene la scelta! OOH! Pai ragazzi! Vieni la faccia! Vieni la faccia! Vieni la faccia! Poi si fai, vieni la faccia! Vediamo, vediamo! Prova! continuiamo con questa bella lista oggi c'è una persona che ci ha riconato particolarmente su una cosa e che altro altro adesso ho fatto un po' delle lecce ho fatto un po' delle lecce ho fatto un po' delle lecce e gli signori Sergio Arancio è il migliore extracomunitario è il premio extracomunitario no non è meglio lo filmino lo filmino scusamelo ehi me lo citiamo ragazzi C'è un tocio che ti ha messo un nick, diciamo per una cosa che una volta abbiamo notato, io e la pinguina, che va premiato anche lui, i panni colorini. Non si vede da niente, sto facendo fin da fare il fotografo ufficiale. Vai, vai, non matta te. Voto dopo, ho vinto, 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 allora, la pinguina adesso si sposta, si sposta sulla zona, sulla zona roccia, una parzione, una parzione che ha un suo racing team, il castibile racing team. Guardate la città tutta emozionata. Ma io, ma sei nonna, stanno avendo oggi, io! Ma non mi stia! Ma io, ma sei nonna, la mia nonna ecco! Allora, io c'entro qua. Vabbè, a 10 minuti. C'entro una sigla che... No, no, non lo dicevo. La sigla, la roba strana. No, tu mi dici. Marcello, basta. Allora, volevo chiamare qua. Ma dove è? Volevo chiamare qui, Salvino Coschettino, Salvino, 3-3-9 fan, partitiato come Panam, Resto segnale con Panam! Scutate, scutate il attimo! Obpa!!! Scusate un attimo se facciamo questa virgola parentesi, purtroppo il signor Melli deve andare via. Lo volevamo ringraziare ufficialmente a noi del Ducatillese il Presidente del Presidente del Presidente del Presidente. Scusate un attimo se facciamo questa virgola. Chi è che ha posteggiato dietro la Ferrari Blu che è in blottata, non può uscire. Ok, continuiamo. Mi piacerebbe. Mi confondete. Ah, personaggio particolare. Non c'è, non c'è scritto il nome, lo sappiamo. Personaggio particolare. Non c'è l'offino, non c'è l'offino. Anno, animale. Non c'è, non c'è l'offino, animale. Giusto? Eh sì, un personaggio particolare che è il mio amico da parecchio, parecchio, parecchio. Ed è, benissimo, si facciamo la vittima. No! 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 8 minuti e dai Allora, molto probabilmente il più giovane personaggio viene pregnato oggi è stato pregnato, riconosciuto Ah no, non sono d'accordo Non sono d'accordo Quattro Il personaggio più... Il personaggio più... Sì Edoardo Lobby Edoardo che sta... Stai nel senso Sì Edoardo 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 Edoardo